Angelo, ciao Sara, grazie. Ciao a tutti. Presidente, le possiamo chiedere cosa ha detto a Iachini? No, abbiamo fatto... L'avvento è che ci dobbiamo salvare, stop, chiuso. Lui ha detto che è sicuro, perché è sicuro di portare avanti la squadra bene, buonanotte. Rimane quello che ha detto in settimana, che Chievo comunque rimane decisiva per Iachini? Ma no, l'ho detto io a lui, Beppe, se dove si perde contro il Chievo, se non ti mando via, a Palermo mi ammazzano. Ma cosa ha detto Iachini? Che è convinto di fare bene. Andrà anche a vedere l'allenamento? Stiamo andando adesso all'allenamento, poi, se andiamo a mangiare qualcosa per l'allenamento, ok? Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.